ciao maria cosa stai facendo oggi oggi sto facendo i carciofi hai fatto questi carciofoni guardi questi sono carciofoni molti grandi molti grandi per alcuni mesi non è stato possibile andarci sono cresciuti così grandi si sono fatti i carciofoni giganti di qua cosa ci fai con questi carciofoni maria si fanno di tante di tante qualità si fanno è come un piatto dacci un paio di piatti che tu fai squisiti si fa prima se le facciamo fritte si fa prima la pastetta e poi si friggono e poi si fanno anche imbottiti imbottiti di piombo si come con il piombo con il formaggio con il prosciutto e se ci mettiamo olivecchiappariella buonissimi maria allora queste sono le tre ricette di maria guarda 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 che carciofoni maria allora saluta i grandi questi carciofi saluta tutti i nostri followers saluta anche da maria ciao followers ciao 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 caro ciao